Salve amici del segreto, in questo video andremo a vedere un altro libro di Robert Kiyosaki intitolato Seconda Chance. In questo libro Kiyosaki utilizza le lezioni del passato e una brutale valutazione del presente per preparare i lettori a vedere e accogliere il futuro. Se i lettori possono allenare la loro mente a vedere ciò che i loro occhi non possono vedere in un mondo che sta diventando sempre più invisibile e che si muove ad alta velocità possono avere una seconda possibilità di creare la vita che hanno sempre desiderato. I problemi globali che abbiamo di fronte non possono essere risolti dalle stesse menti e dalle stesse persone che li hanno creati e il mondo di oggi richiede la capacità di vedere il futuro e di prepararsi a ciò che ci aspetta, prepararsi alle opportunità e alle sfide. Cominciamo subito con il riassunto. Il passato. Kiyosaki ha diviso questo libro in tre parti, passato, presente e futuro. Come avete capito Robert inizia con il passato, ricorda di aver incontrato un amico che non vedeva da un po' di tempo. Lui era un po' scioccato nel vedere il suo amico lavorare per Starbucks e gli chiese cosa stesse facendo lì. Il suo amico rispose che dopo il crollo dei mercati finanziari nel 2007 aveva perso il lavoro e la casa, aveva bruciato i risparmi della sua vita ed era stato costretto a fare domanda per un lavoro mal retribuito. Si era perfino iscritto all'università per ottenere un prestito facendo un master. Robert ha pagato il caffè e se n'è andato. Da questa situazione di vita Robert vuole mettere in evidenza alcune realtà aziendali inconfutabili. Innanzitutto che la casa non è una risorsa, i risparmiatori sono dei perdenti e i ricchi non lavorano per i risolti. In passato erano i grandi proprietari terrieri quelli che oggi consideriamo ricchi. La persona comune, tuttavia, senza alcun legame con l'aristocrazia, era destinata ai lavori forzati. Nell'era dell'espansionismo digitale, dove l'accesso a informazioni preziose è spesso gratuito, perché non ci sono più ricchi? Ci vuole conoscenza per trasformare l'informazione in competenza pratica. Quando si va all'università non si impara a farlo. Secondo Kiyosaki, informazione moltiplicato per educazione è uguale a conoscenza. La nascita della generazione perduta è l'ennesimo fenomeno che affligge le società. È solo un'illustrazione della generazione istruita che non è in grado di trovare un lavoro che corrisponda al suo livello di ambizione. Tale realtà abbassa il loro potenziale di guadagno durante gli anni della mezza età e porta a un aumento del debito. I prestiti agli studenti sono raramente cancellati, specialmente negli Stati Uniti. In altre parole, anche se si dichiara il fallimento, non c'è quasi nessuna possibilità di superare il costoso viaggio intrapeso nella prima età adulta. Kiyosaki chiama questi studenti figli boomerang, ragazzi che escono di casa solo per tornare al verde e in totale disperazione qualche anno dopo. Molti esperti temono una nuova grande depressione. Il modo migliore per guardare al futuro è quello di essere critici nei confronti del passato. Quali sono gli indicatori chiave che preannunciano un malessere economico? Innanzitutto i buoni pasto che sono in aumento, la classe media che sta diventando sempre più povera, i baby boomer, persone nate in Europa o Nord America tra il 1946 e il 1964, i quali non hanno accumulato abbastanza benefici per godersi la pensione, quindi non hanno accumulato abbastanza denaro. Kiyosaki dà molto credito al dottor Fuller che gli ha insegnato a prevedere il futuro e a capitalizzare durante le emergenze. Il crollo dei mercati del 2007 è stato uno di questi. i politici continueranno secondo Kiyosaki a spazzare i problemi sotto il tappeto e il vostro compito sarà quello di occuparvi del vostro futuro finanziario. La gente lotta per la mancanza di conoscenze finanziarie e per l'incapacità di distinguere tra attività e passività. Rich Dad che sarebbe il padre ricco come abbiamo visto nell'altro libro padre povero e padre ricco padre povero. Il padre ricco era il padre del miglior amico di Kiyosaki il quale era molto ricco e parlava molto spesso con Kiyosaki spiegandogli la differenza tra ricchi e poveri. Il padre povero era il suo padre che aveva fatto anche un dottorato di ricerca e lavorava in una scuola nell'isola Hawaii però nonostante avesse studiato tutta la vita diversamente dal padre ricco si trovava sempre in difficoltà finanziarie. Tutto il libro si basa nella contrapposizione tra padre ricco e padre povero sotto l'aspetto filosofico quindi le credenze la tipologia tipologia di investimento che fa una persona ricca e una povera come gestisce il denaro le competenze eccetera ed è uno dei best seller mondiali il libro più venduto di tutti i tempi che tratta materie finanziarie. Io ho fatto anche il riassunto di quel libro così come il riassunto dell'altro libro best seller di Kiyosaki cash flow i quadranti del cash flow vi lascio il link in descrizione se vi va di dare un'occhiata dopo aver visto il video. Quindi Rich Dad credeva che ottenere consigli finanziari da qualcuno che non mangia a meno che non ti venda qualcosa sia un gioco pericoloso quindi solitamente non si può pensare che uno che lavora a wall street voglia fare i tuoi interessi perché l'unica intenzione che lui ha è quella di vendere per mantenere il proprio lavoro e magari guadagnare i bonus. E anche secondo Warren Buffett è di primaria importanza capire la differenza tra un discorso di vendita e un valido consiglio finanziario quindi chi ci sta consigliando ci sta dando un consiglio oppure sta cercando di venderci qualcosa perché la differenza non è sottile. Il presente odiamo sconvolgere il nostro mondo ma chi si affida il governo per prendersi cura di loro avrà una grande sorpresa secondo Kiyosaki e lui fa alcuni esempi a riguardo. Secondo lui l'atto Obama Care è stato accolto con ammirazione. La legge sulla sicurezza sociale ha reso la vita più facile alla generazione della seconda guerra mondiale ma a spese della generazione della guerra del Vietnam. Solo il futuro ci dirà secondo Kiyosaki se l'Obama Act diventerà una responsabilità sociale e medica o meglio ancora un onere per le generazioni future. Kiyosaki ovviamente ha pubblicamente sostenuto Trump nelle elezioni presidenziali, ha scritto anche un libro con lui quindi ovviamente appare abbastanza critico nei confronti di Obama. Kiyosaki sottolinea l'importanza della capacità di interpretare della situazione finanziaria. Lui dice in questi giorni la gente preferisce apparire più ricca distorcendo la realtà reale quindi spesso andando a spendere oltre le proprie possibilità indebitandosi. Anche con un reddito più alto non riescono a stare al passo con le passività sostenute. Kiyosaki fa anche una distinzione tra attività e passività. Le attività sono le azioni, le obbligazioni, i risparmi eccetera che sono denaro nelle nostre tasche. Le passività sono la casa comprata con un mutuo, un'auto, prestiti eccetera che sono soldi che vanno via dalle vostre tasche nelle tasche delle banche. Sono quindi un'attività per le banche e una passività per voi. La cosa principale che nessuno ti ha mai detto è che i ricchi non lavorano per i soldi. Questa è una frase che lui usa spesso. I ricchi cercano di possedere i mezzi di produzione, non sono alla ricerca di salari più alti. In altre parole sono imprenditori dall'alto verso il basso, nutrono uno spirito imprenditoriale che li aiuta a vedere il mondo attraverso la lente delle possibilità. In ogni bilancio ci sono quattro classi di investimento in cui ogni persona può investire, il business, gli immobili, carta, che sarebbe il denaro e materie prime. Con carta ovviamente non si intende solo il denaro ma anche azioni, obbligazioni, titoli finanziari che uno può comprare in borsa. Ogni persona deve capire cosa rappresenta ciascuna. Da quanto ci è stato detto è facile capire perché i risparmiatori non possono e non vogliono arricchirsi. Anche lo schema del rapido arricchimento dovrebbe essere scartato. Non che i miracoli non accadano ma non si dovrebbe contare sulla fortuna per far tutto il lavoro pesante. Kiyosaki condivide la sua passata passione per le materie prime, in particolare per l'oro e l'argento. Prima di esporre il tipo di investimento in cui ci si vorrebbe avventurare è fondamentale mostrare una sorta di amore verso il processo di costruzione di quel bene. E infine, ma non meno importante, scoprire il gioco che potrebbe portare denaro o quello di cui si ama far parte. La storia ci ha dimostrato che un mix di impegno e passione aumenta le probabilità di un esito positivo. Kiyosaki sostiene sempre anche nelle interviste che ha dato che la sua grande passione sono gli immobili, quindi i beni immobiliari, le case di molte unità. Lui possiede migliaia di case che affitta e dice che la passione che lui ha per le case in generale fa sì che lui investa solo in quel settore lì, quindi è concentrato solo in quel settore lì, non è uno che investa in borsa oppure compra gioielli eccetera. Prevalentemente tutto quello che fa è investire in borsa, spesso indebitandosi con le banche e comprando case che poi affitta e attraverso gli affitti cerca di sostenere il debito che si è caricato. Futuro. Perché il sistema educativo salta la parte relativa alla gestione delle finanze? Il fatto che gli studenti non imparino nulla sui soldi è il motivo per cui finiscono per affogare nei debiti al momento della laurea. Quando si nega l'istruzione a certi gruppi come gli schiavi o le donne in passato si ha il controllo del loro destino. In alcune parti del mondo questa pratica è ancora in giro. Che ci crediate o no, la persona che firma la busta paga che voi ottenete esercita una grande influenza sul ricevente. L'idea di lavorare più duramente non sembra avere alcun senso. Perché? Perché più si guadagna più la percentuale delle tasse aumenta. E questa è una chiara indicazione del perché la classe media si riduce ad ogni generazione che passa. Il primo 1% paga meno del 13% delle tasse, mentre la classe media superiore paga fino al 50% di tasse. Quindi l'1% sarebbero i ricchi che rappresentano più o meno l'1 o il 2% della popolazione ma che paga soltanto il 13% di tasse attraverso ovviamente i consiglieri che hanno le conoscenze che hanno riguardo il sistema fiscale che poi loro usano a loro favore. Questo è esattamente ciò che fa l'educazione finanziaria. Ti insegna a risparmiare i tuoi guadagni e a sradicare le passività. I poveri si concentrano a contenere le spese mentre i ricchi si concentrano sulle loro attività. Il papà povero ti insegna a lavorare per i soldi mentre il papà ricco ti insegna ad acquisire beni. Se lavorate per produrre flussi di cassa siete sulla strada giusta. Tuttavia se siete più interessati ad ottenere uno stipendio più alto di quello che avete oggi allora avete la mentalità del papà povero. Volete stare attenti ai debiti e alle tasse perché aumenteranno in proporzione al vostro stipendio quindi dovete fare attenzione a questo punto. Ogni volta che aumenta il vostro stipendio non è detto che aumenti anche il vostro potere d'acquisto. Il metodo dell'errore è l'unico che può essere considerato efficace ma che dire dell'educazione? È più importante che mai ma questo non significa che andando all'università si otterrà ciò che si è prefissato. Tutti sognano di diventare il prossimo Elon Musk o Steve Jobs tuttavia nove imprese su dieci falliscono nei primi cinque anni. Il motivo del loro fallimento è quello che Kiyosaki chiama iper specializzazione. Quando si sa molto di poco si perde il quadro più ampio fondamentale per rimanere in gioco. Una delle cose che la gente non si rende conto è che gli imprenditori non dormono mai. È in parte il motivo per cui molte startup finiscono per fallire e per cui molte persone preferiscono lo status di dipendenti. Non si preoccupano dei regolamenti, dei costi dei prodotti, degli investimenti, del marketing, dei costi delle attrezzature, delle tasse eccetera. Gli specialisti lavorano per i generalisti. Anche questo è un elemento molto interessante. In effetti questa è l'intera storia che sta dietro al perché gli studenti A lavorano per gli studenti C che è l'altro libro di Kiyosaki dove studenti che andavano male a scuola sono diventati imprenditori e quelli che andavano benissimo a scuola lavorano adesso per questi imprenditori, per gli studenti che ottenevano C. Nel sistema americano la A sarebbe il voto più alto mentre la C quello più basso o diciamo così più basso della A e della B. Non so se c'è anche la D sinceramente ma probabilmente sì. Nessuno può dire con certezza che una cosa sia migliore dell'altra perché varia da caso a caso. Avete tutta la flessibilità del mondo per decidere e fare ciò che è necessario per raggiungere la libertà finanziaria. Adesso andiamo a vedere anche alcune lezioni chiave di questo libro. numero uno cambia la tua prospettiva, numero due il generalista e il creatore di denaro. Cambia la tua prospettiva non crediamo che tutti siano predestinate a diventare imprenditori ma ciò non significa che non si debbano cambiare le proprie abitudini di spesa. Abbiamo visto nel libro di Bodo Schaeffer riguardo la libertà finanziaria come questo sia possibile ad esempio prendendo un quaderno e scrivendo tutte le spese che avete ogni giorno in quel quaderno per un mese. Questo vi fa capire quanto spendete in un mese e vi fa anche capire a cosa potete rinunciare. Cioè se voi spendete solo per mangiare 500 euro al mese ma vedete che state mangiando molti snack, molti dolci che non vi fanno bene e potreste risparmiare e allo stesso tempo anche migliorare la vostra dieta. Quindi passando da 500 a 300 euro al mese avete risparmiato 200 euro al mese che in un anno sarebbero 2400 euro. Quindi si risparmiano 2400 euro solo vedendo e capendo quanto spendiamo in realtà. E se lo fate per ogni spesa che avete anche che ne so quanto spendete vestiti o in libri eccetera. Magari potete trovare versioni meno care di libri come ad esempio audiolibri. Magari ascoltate i libri su youtube o leggete un pdf oppure magari ascoltate il riassunto quello che sto facendo io. Anche in questo caso potreste risparmiare denaro. Se lo fate per ogni cosa che spendete durante il mese sicuramente in un anno potreste riuscire a risparmiare anche migliaia di euro. I generalisti sono i creatori di denaro. È inutile dirlo per gestire un'impresa. Bisogna avere una visione più ampia dei processi. Per dirla in modo diverso dovreste ampliare il vostro campo di competenza per poter stabilire le regole e prendere decisioni redditizie. Non c'è bisogno di un milione di dollari per iniziare ad investire. La sicurezza del lavoro richiede una formazione specializzata. La libertà finanziaria richiede un'istruzione generalizzata quindi non dovete sapere conoscere tutto che ne so di giurisprudenza o magari di economia o di finanza. Dovete riuscire a conoscere le cose che vi servono in campi diversi e imparare come adattarle nella vostra impresa. Quindi se un economista sa fare solo i bilanci non può gestire un'impresa perché deve anche imparare a gestire il personale, deve imparare come funziona la leadership, deve saper gestire le spese, deve riuscire a fare una sorta di bilancio anche generale, ossia di tutto quello che compreremo in un anno, che ci serve, le cose a cui possiamo rinunciare quest'anno, come possiamo dividere le spese, come possiamo migliorare i nostri dipendenti, come possiamo formare meglio i dipendenti magari riuscendo a dare più competenze ad un dipendente in modo da tagliare il numero dei dipendenti. Quindi ovviamente si tagliano anche i costi. E ovviamente bisogna conoscere molte cose altrimenti si finisce per chiudere entro cinque anni, come abbiamo visto la maggior parte delle imprese oggigiorno chiude entro cinque anni, quindi non riesce a sopravvivere. E questo anche per il fatto che la gente pensa che se io ho questa competenza qui, questa mi basta, ho anche il denaro, questo non mi basta per aprire un'impresa. Quindi io ho 200.000 euro, cucino a casa mia, mi piace cucinare, so fare due o tre piatti, allora apro un ristorante e divento milionario. No, non funziona così. Servono un altro personale, un altro tipo di personale con cuochi, camerieri eccetera eccetera che alla fine tutti insieme se sono ben specializzati a fare il loro lavoro riusciranno ad attirare clienti. Ma anche qui serve anche il marketing, serve anche la posizione dove comprate il locale. Se lo comprate in una zona dove ci sono tre case in autostrada ovviamente sarà difficile avere successo con il ristorante. Ci sono quindi più fattori che determinano il funzionamento di un'impresa. Non basta avere i soldi e la buona volontà. Servono anche le conoscenze specializzate, quindi riuscire a ragionare in questi termini. Cosa mi serve per avere successo in questa cosa? Mi serve il denaro ma mi servono anche le competenze, mi serve il personale, devo specializzare il personale, devo imparare come gestire i costi, quanto dovrò spendere in dieci mesi e sono in grado di sostenere i costi per dieci mesi anche se non guadagno nulla perché chi apre ad esempio un ristorante deve comprare, deve arredarlo, deve comprare la cucina eccetera, deve pagare il personale e magari per dieci mesi, undici mesi sei ogni mese in perdita. Quindi perdi che ne so diecimila questo mese, magari anche centomila perché stai comprando tutto all'inizio, hai comprato anche il locale e non ti servono quindi solo i soldi per aprire, per comprare il locale. Inizialmente ti serve anche il denaro per sostenere i costi da parte, quindi non devi avere solo centomila euro che servono per comprare il locale ma anche magari centomila per arredarlo e per pagare il personale per dieci mesi sostenendo i costi che sono sempre in perdita. Dopodiché tra dieci mesi, undici mesi, se riesci a sostenere questi costi cominci poi a guadagnare cinque, diecimila euro ogni mese. Chi non fa però questi costi sbaglia è fallisce. Senza istruzione uno schiavo sarebbe sempre povero, le persone non istruite dal punto di vista finanziario non fanno domande facili, domande difficili, quindi domande difficili anche in questo caso sono importanti perché sono quel tipo di domanda che una persona normale non farebbe e di conseguenza questo è uno dei motivi per cui molte imprese falliscono perché la gente pensa, fa calcoli di due o tre minuti, cioè mi servono tot soldi, mi serve questo locale, mi servono due o tre dipendenti, ciao ho aperto. Non riescono a fare domande più complesse come appunto quelle che ci dicono quanto riusciremo a sopravvivere con una perdita per quanto tempo. Oppure come posso migliorare il mio marketing? Anche queste sono domande difficili perché non vai semplicemente con diecimila euro da un'azienda e paghi una pubblicità, anche qui riesci a ragionare magari dicendo come posso crearlo da me, come posso creare, che ne so nel caso del ristorante un menù che attiri le persone perché costa poco ma allo stesso tempo mi porta guadagni anche se non altissimi, alla fine la gente pensa che stia risparmiando, viene da me perché mangia in modo conveniente e sano ma allo stesso tempo io riesco a fare denaro, riesco a fare guadagni. Quando se invece ho solo piatti da 20 euro probabilmente non verrebbe nessuno, specialmente chi non mi conosce perché nessuno è disposto a pagare 20 euro per un piatto in un ristorante nuovo che è appena aperto e non conosce. Le persone non istruite dal punto di vista finanziario non fanno domande difficili era uno dei punti più importanti di Kiyosaki che lo abbiamo visto anche negli altri libri come Quadranti Cashflow e Padre Rico Padre Povero quindi bisogna essere in grado di ragionare bene, di guardare ogni aspetto sotto diversi punti di vista. Si stima che l'americano medio possa sopravvivere meno di un mese senza lavorare, ecco perché milioni di persone si aggrappano disperatamente ad un lavoro e a uno stipendio fisso. Se volete creare qualcosa di vostro dovete assolutamente avere da parte del denaro che vi consenta di vivere senza lo stipendio per almeno un anno. Non potete avere mille euro in banca e voler aprire un'attività vostra sarebbe un suicidio. Lo scopo dell'istruzione moderna non è mai stato quello di prendere la classe media e renderla ricca. Semmai è quella di impoverire la classe media e di tenerla a bada diciamo così. Questo era il libro Seconda Chance di Robert Kiyosaki. Si tratta di consigli che aiutano a cambiare l'approccio mentale nei confronti degli investimenti. Spero che il video vi aiuti e ci risentiamo nei prossimi video. Ciao!